E ragazzi, come va? Io sono Feri e Niki E sono Stefano che si giochiamo a Minecraft E benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft dove metteremo alla prova, al 100% la nostra mod Quindi oggi faremo dei vari test per vedere quanto Fer è forte, è bellissima, è fantastica, è stupenda Finquanto mi devi fermare, non mi fermerei mai No, no, io ti lascio andare, ti lascio andare, ormai sono davvero curioso di vedere per quanto è uscito andare avanti Vorremmo dire, è magnifica ma qui avrei scatenato la rissa, capito? Sì, 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 c'è una sola parola che tu non puoi dire, ok? Ok? Chiaro? Ho una domanda, posso farla? Allora, vedo che Capitan Jeff che parla Ok, la tua armatura è fantastica, si crede anche adesso un po', però dov'è? Non lo so Come l'hai perso? Sì, sinceramente Come sì? Sta parlando ma non capisco bene dov'è Ma scusa, se sta parlando e lo sentiamo deve essere qui in zona Sì, lo so che in zona Ma Stef, cavolo, l'hai perso L'ho cercato da due ore, non lo trovo, sta zolazzando, Feri, non lo so, ok? Ricordatevi questo, Consolini, ha perso Capitan Jeff No, per ricompare, mica l'ho perso Guardate la mia spalla, io non perdo mai nessuno Quanto vorrei che la mia spalla potesse sparare Comunque stavo dicendo Ovviamente prima di metterci alla prova con diverse sfide Tra cui 100 modi per non ammazzare Fere Che è la sfida più interessante che vi piacerà tantissimo Oggi proviamo il mio letto Esatto Ti stavo già ignorando, capisci? Allora, quindi mettiamo un attimino notte Perché giustamente non si può dormire di giorno E provo, Stef Dove sei finito? Sto cercando di far tornare Capitan Jeff da me ma Ah, no, non torna, non torna Allora, vorrei far notare innanzitutto quanto è bello il mio letto Perché c'è una faccia sopra È bellissimo Capitan Jeff va a farci una felice Vedi, anche lui è felice Non si sa da dove, però è felice Sei un po' preoccupato, Stef Un pochino, sì, un pochino Vado? Capito, dov'era Dov'era? Sulla mia spalla ma era invisibile Ah, ok Voleva fare il furbetto Aspetta, ho perso anche il signor Paiarino Allora, devo far vedere Che cosa fa il letto di Fere Quindi dormirò anche io in questo letto Anche se è suo e di solito Quindi non ci potrei andare Ma è un'occasione speciale Come potete notare Mi hai disfatto il letto, Stef, rifallo Ok Smettila Che stai a fa' poi? Nulla Dicevo Come potete vedere Al posto dei coricini Che di tutto ci sono Della mela dorata Abbiamo delle corone Delle bellissime corone Aggiungerei Sappiamo benissimo Che Fere si proclama la quina Anche se non lo è E io per lasciarla convinta Del fatto che è una regina Anche se non lo è Ho deciso di mettere un letto Che praticamente Le dà appunto queste coroncine Comunque hanno lo stesso effetto Di un cuore d'oro Quindi semplicemente Hai un sacco di vita in più Però cambiano di estetica Però sono bellissime Sono davvero belle Ok Quindi il tuo letto è questo Adesso hai già assaggiato un pochino Il potere della mia armatura Ok Sei pronta? Sì Sarai un po' gelosa Fere Non ritirarmela addosso Perché mi hai fatto male Ho perso tante coroncine Bene ma infatti Non l'ho fatto di proposito Però sono talmente potente E poi non hai visto tutto Ok Io posso volare Per dieci secondi E nel mentre Solo dieci Lancia i pulmini È pazzo Totalmente pazzo Oh finalmente Steph Comunque è una bella cosa anche tu Perché la tua spada Comunque non fa danno Però almeno con l'armatura Puoi volare Lanciare i pulmini È divertente Infatti qualcosa Ma dovevo dare per forza Perché non potevo essere Troppo scarso Quindi in proprie parole Io posso svolazzare Per soltanto dieci secondi E in questi dieci secondi Tirare dei pulmini Potentissimi Che ne bastano tutto Comunque da notare Che tutti i tuoi oggetti Comunque hanno degli effetti Da codardo Steph Un pochettino bisogna dirlo Cioè E puoi scappare volando E hai i razzi per scappare E puoi curare E lanci i pulmini Per difenderti Cioè non fare una cosa giusta Lei è gelosa dei miei razzi Lei è gelosa Della spada Con i razzi È soltanto quello Però i razzi sì Comunque È ora di metterti Un pochettino Alla prova Ok Ok Allora La prima prova Che noi facciamo Vado anche in game mode Perché qua ti devo proprio Mettere alla prova In tanti modi diversi Si chiama appunto 100 modi per ammazzare e fare Ok Ok È davvero interessante Praticamente Io proverò diversi modi In cui di solito Si prendono danni nel gioco Per vedere se trovo Un modo per fregare La tua armatura Ok Che mi sto già mettendo E renderti vulnerabile Boom Uy che sono diventata Ad esempio Cosa proprio così Che mi viene in mente Fin da subito Se noi le mettiamo Della gravel sopra la testa Riusciamo a fregare Della gravel Il sistema Esatto Perché la gravel cade Ti schiaccia e soffochi Boh Non lo so Non credo Non mi sembra una bella idea Steph Volevo qualcosa Un po' più di Un qualche modo Diamo tutti che con una spada Non prendi danno È banale Allora stai perfettamente sotto A questo pilastro Grazie Però non è nulla Dovresti bucarlo Per stare perfettamente Stai perfettamente sotto Nel senso attaccato a un lato Ok Ok vai Vado Vai Vediamo Ma mi si sposta il personaggio Non l'ho fatto io Lo so Lo so Lo so E non hai avuto nessun tipo di problema Giusto? No Assolutamente no Scusa Levati l'armatura Esatto Ok levatela per favore E torna un attimo È la cosa migliore Da fare che altrimenti Partono fulmi E il fulmine ti ha fatto danni? Però mi sembra di avere due corone e mezzo Sì Sì Ok E immune Mi si sono tolte quasi tutte le corone No ma si immune i fulmini Te ne ho tirato altri cento nel mentre Quindi non ti fanno Ah beh perché ora l'armatura Ti dicevo prima mi hanno fatto male Mi hanno levato le corone Allora torna sempre in quello stesso punto di prima Più avanti Più avanti Non posso andare più avanti di così Vado qua Ma io l'ho tolta la ferie Ma Io vedo i blocchi lì Vabbè mi metto qua Ma che cavolo sta Non lo so C'è qualcosa di strano vai Però Capitan Jeff ha buggato tutto Niente Niente Cioè è sotterrata dagli Anvil E lei non prende danno Sì 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 Non ho minimamente preso da Anche così nulla Poi Vediamo con questi Non mi arrendo eh Secondo me prima o poi qualcosa la trovo Secondo me prima o poi qualcosa io la trovo Posso abbracciare i cactus Steph E non mi succede nulla Ma proprio niente di niente Non l'accetto Vai Sto benissimo Sferma Ok Vuoi provare a darmi fuoco Steph Ma se posso fare il bagno nella lava Dai Questo è banale Lo sanno tutti che posso fare il bagno nella lava Steph Allora Cosa vuoi che mi faccia un po' di pocherello Ragiona 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 Qualcosa la troviamo Qualcosa la troviamo per forza Allora Potremmo metterle Beh in primis Effettivamente noi non abbiamo mai visto se magari può subire danno da tipo veleno Ok Questo è interessante Questo è interessante Questo è interessante Magari il modo per farla morire è proprio con delle frecce velenose Quindi noi ci diamo un bel arco Abbelenate Steph Vado? Abbelenate Vai Scusa Cioè ti trapassa? No io ne vedo Rimbalzano Aspetta l'ho vista Stai scherzando? Sì rimbalzano Rimbalzano su di me Sì 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 Stai scherzando? Sono immune alle frecce È una figata questa Steph Cioè Si rimbalzano Ma Ma Non è possibile Sono immune al veleno Ok E anche le frecce Buono sapersi Sinceramente questa cosa non la sapevamo Ma evidentemente sono anche immune alle frecce Va bene Sono formidabile Va bene Vediamo cos'altro posso provare Ma come puoi competere? Guarda io mi faccio il bagno Nella lava E tu fai schifo Steph Con cosa potrei ammazzarla? Non lo so Non puoi Consolini Detemi dai poi nei commenti Perché dovrò trovare il modo di farla morire con quell'armatura È una questione d'onore Quindi abbiamo Ferry in survival Tre pigmen E il signor Marialino non c'è più per difenderla Tu devi colpirli Ok E vediamo se riesco a farti sopravvivere Io non faccio nulla E li ho solo colpiti Ok Come sta andando per ora? Allora mi curi Però loro mi fanno più danno Steph Penso che morirò Davvero? Sì Inutile Io me l'ho detto che è inutile con i suoi poteri Allora perché tu mi curi di mezzo cuore per volta Mentre invece loro mi fanno più danno Quindi è davvero complicato Capisci? Per Eh Steph Cioè La tua prova è sopravvissuta a qualsiasi tipo di cosa mi venisse in mente Allora perché la mia armatura e le mie armi sono davvero efficaci Le tue no Non per bellezza Perché a te non ti servono a niente Capisci? Dille qualcosa Facciamo una gara di velocità allora Come di velocità? Sì Chi corre più veloce? Ma Ti piace? Non penso che cambi qualcosa Sì Perché ho dei razzi Eh allora c'è Pronta? No non la faccio Allora dritti di fronte a noi Dai Steph Fai i razzi Ok Vai 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 Devi corre Dritta Ti scavo una fossa Corri dritta Steph Fai i razzi Dai Devo far vedere qualcosa Devo far contento e farti vedere Sì Devo far vedere Far finta che tu sei capace anche a qualcosa Vai Ok vai Corri Eh parti pure Non c'è problema Ciao Fede Posso dirti che sei imbecille? Si può dire Si si può dire Perché lo sei Ma sei un po' lenta però Avresti proprio bisogno dei razzi Pronta? Vai Ah lui devi curare Ok vai Vai È una sfida più interessante Eh sì Vai Pigman immortale Almeno tu mi vuoi bene Vero? Almeno tu mi vuoi bene Continua a picchiarla Sto funzionando eh Prima o poi ce la facciamo Prima o poi la battiamo Prima o poi la sconfiggiamo Forza mio Pigman Forza che ce la facciamo Funziona guarda Però colpisci La porca miseria Ma sei una schiappa Bravo Sto morendo Bravo un altro hit Perché sei vicino troppo Un altro hit Io continuo a curarti Stai tranquillo Non devi tentennare Ti ha dato una bella raffica però eh Ti ha dato una bella raffica Qua chi spama di più è diventata No diventa davvero immortale Quindi la cosa curiosa È che tu sei più utile Ai mobbo stili Che a fere Ovviamente potete proporci Altre sfide da fare Con i vari oggetti che abbiamo Soprattutto consigliatemi Nei commenti Dei modi In cui secondo voi Potrebbe subire danni fere Quindi datemi i consigli Su tutto quello che vi viene Che c'è? Fere Eh So come ammazzarti Cos'hai combinato? Metti l'armatura Non ce l'ho Datti l'armatura Ok È ora di ammazzarti Adesso Così abbiamo finito il video Ti vengono in mente Perché non posso neanche più Gioco Allora la mia armatura Gioco Ma siamo seri? No fere Non fa Non fa Non fa Non fa So come ammazzarla Ma non posso farlo Cosa volevi fare? Farti cadere giù dal mondo Fere? Eh Un'altra idea Che idea? Ti teleporto Mettiti l'armatura Ok Tutta eh Sto mettendo Vai 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 Mettiti Perenichi Fiu Steffil Magnifico Mi hai buttato in acqua? Sì Allora Mi serve una bella Night Vision Così me la guardo bene Mentre affoga E teoricamente Dovrebbe prendere danni Non è che scendono le bollicine E poi lei muore Non scendono neanche le bollicine Esatto Neanche quelle Cioè Invincibile Non è possibile Posso vivere sott'acqua e tu no Non è possibile Posso vivere sott'acqua e tu no Tanto non mi vedi E la so benissimo No ti vedo Ti vedo Non l'hai bevuta la mia pozione Capisco dove sei Perché vedo la scritta Quella un po' mi fa intuizione E questo lo capisci? No 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 Oh mio dio Ma Ma che Che hai combinato? Posso farti volare con la tua stessa spada Oh dobbiamo inventarci più teste È bellissimo È bellissimo È fantastico Vedi posso avere i razzi Stef Ora i razzi Ora ho i razzi Perfetto Che figata Ah bellissimo Dai comunque fermiamoci così Che stiamo già scoprendo troppe cose Quindi nemmeno affogare consulini Dovete impegnarvi bene Perché altrimenti non troviamo nulla E proprio anticipa il trasfido A fare con signor maialino Armature Spade Tutto quello che vi viene in mente Così continuiamo a divertirci Con la nostra mod Grazie a tutti